Adesso sono io l'imperatore di tutto questo regno Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video Oggi come potete vedere mi trovo in un posto molto particolare Mi trovo in un Realms inviato da voi, sì da voi i miei iscritti Ragazzi vi prego la prossima volta che mi invitate in un Realms Almeno datemi i comandi per favore Perché sono stato tutta la notte qui dentro circondato da mostri Senza niente da mangiare Guardate ho trovato queste cose dentro una cassa per fortuna Infatti adesso mi mangio una zuppa di barbabietola Devo sopravvivere col materiale che trovo in giro Nuova sfida Ecco guardate era pieno di questi zombie Allora non esco dalla porta principale Magari esco da qui che non mi vedono quegli zombie Allora dove ci troviamo? Ci troviamo in un mondo medievale Guardate alle mie spalle cosa c'è Un immenso castello Perché oggi esploreremo insieme il castello più grande di Minecraft Avete capito bene? Guardate è veramente immenso Guardate c'è solo le mura qua fuori sono gigantesche Guardate c'è anche una catapulta sopra le mura Non vedo l'ora di guardarlo Oh c'è un pollo lì dietro Ciao Ciao pollo Allora adesso mi trovo fuori dalle mura del castello Come potete vedere c'è la zona diciamo più agricola Diciamo così Ecco guardate qua c'è Ci sono dei cartelli C'è un fuoco Delle tende Qua dentro una spada Perfetto Una mappa vuota Posso usarla? Ok non mi serva granché Vattene via Un'altra cassa Ok un'altra spada del pane Sì io mi prendo tutto che queste cose mi servono Ecco prendo anche questo fino Questa bala di fino Che sicuramente mi verrà fame dopo Grazie Guardate che alberi Guardate che alberi Sono giganteschi Wow Qua cosa c'è di bello? Ah qua c'è un'altra casina Ci sono un sacco di polli C'è un sacco di grano Qua dentro c'è qualcosa di interessante C'è qualcosa di interessante Uh altro cibo Grazie Qua sopra Qua sopra cosa c'è? Ah ci sono i letti Ecco poi non avevo nemmeno un letto ragazzi Qua non c'è nulla Non posso dormire qui Mangiamo una carota Mangiamo una costoletta di maiale Dai andiamo ad esplorare il castello Mi raccomando lasciate tanti like Se volete altre mappe belle come questo Ops No No questa mappa mi Mi ha preso Allora qua c'è un sacco di grano Prendiamone un pochettino Che non voglio rimanere senza cibo Dammi il grano Ok qua ci sono i maialini Ecco guardate c'è subito un ponte Wow fantastico Tridimensionale Bellissimo è stato fatto tutto tridimensionale Ok entriamo È permesso Salve Bene stiamo entrando Siamo entrati Se questo cancello ci casca nella testa Ci fa molto male Uh Salve Ci sono delle casine molto belle Alberi giganteschi proprio Wow Qua c'è tutta la zona Ok Ah non siamo ancora entrati dentro Perché queste sono le prime mura Wow Ok qui ci sono le bancarelle Le bancarelle dei commercianti Wow Un lingotto di ferro Io me lo prendo Qua cosa c'è invece Un altro lingotto di ferro Si sono sprecati questi commercianti Qui fammi indovinare Un lingotto di ferro Oh uno smeraldo Ok qua ci sono delle barbabitole Fammi entrare qua dentro Oh scusa contadino Ti ho rotto una barbabitola Di qua dove si va Ecco Sono perso nelle barbabitole adesso Le zucche Ok proviamo a entrare Ecco In una di queste case Fammi entrare Ok qua non c'è la porta Cosa c'è Cosa c'è Ok qua c'è del legno Un asso Io mi prendo un pochettino di cose Qua Ah un calderone Guardate che bello Col bracere Wow Di sopra c'è anche un altro piano Ok il solito letto Fatto molto bene comunque Ok usciamo Andiamo a vedere le altre case Altre casine Permesso C'è qualcuno Ecco queste sono case Molto vecchie Come possiamo vedere Sono quelle Mi c'è dei contadini Non sono quelle Dei re Dei principi Oh una torta Grazie Grazie contadini Per le torte Qua sopra cosa c'è Oh un letto Molto pieno di ragnatele Eh potreste chiamare qualcuno Per fare delle pulizie Vabbè qui le case Bene o male Ragazzi sono tutti uguali Mi prendo un po' di cibo Che male non fa Uh Qua la cosa diventa interessante Ok questo c'ha Delle pepite d'oro Ecco questo sicuramente Forse era molto ricco Questo era proprio Il mastro giardiniere Allora andiamo di qua Spingiamoci di più Verso il centro Va Bello Wow Comunque veramente Fatto bene Non so di chi sia questa mappa Wow Veramente Incredibile Poi io adoro Lo stile medievale Adoro tutti gli edifici Di legno Mamma mia Qua si entra Ok si entra dentro Si entra dentro Entriamo dentro Ci sono altre case Wow Queste sono proprio Guardate Che differenza Case piccoline E case enormi Guardate Che castello enorme Wow Sbalordito Allora di qua Cosa c'è Entriamo dentro Questa casa Questa sicuramente Un'altra casa Di qualcuno Di molto ricco Molto ricco C'è anche un piano Un piano di sopra Si c'è anche il piano di sopra No ma è bellissima Questa casa Di qua Cosa ci sono i letti Ok Una scrivania Molto carina Finestre fatte così Che io posso utilizzare Per cascare Ciao mucca Ragazzi Fortuna che c'era del cibo Altrimenti come facevo Cosa vedono i miei occhi Un'armatura Grazie un'armatura di diamante No ma Wow Cosa c'è lì Ma è enorme È una cattedrale Che cos'è Andiamo a vedere Voglio andare lassù Oh una cattedrale No vabbè Quanto è grossa No Bellissima Proviamo a entrare Ok si entra da qua No ma è enorme Guardate che cattedrale Eh No Salve No Salve No Non si arrabbi Non si arrabbi creeper No Ero venuto a fare qualche preghiera Se ne vada Guardate Cioè guardate L'aldischeletro I creeper Ma cosa fanno Stanno facendo la messa Ma cosa fanno Eh Posso entrare Senza che qualcuno Mi voglia uccidere Perché vorrei prendere Anch'io No No Ok Comunque sia questa Ragazzi Guardate È immensa Io direi di andarcene Perché non voglio lasciarci le penne Qua dentro Di qua Dove si va Ok qua si va di sopra Proviamo ad andare di sopra È pieno di mostri Posso cambiare Non posso Guardate Non posso neanche cambiare La modalità di gioco Ragazzi vi prego Mettetemi i comandi La prossima volta Oh Oh no Oh Oh mio dio Da dove è sbucato Guardate che bella No Là c'è una cassa Voglio andare a prenderla Fammi andare a prendere quella cassa No No Ok Ok Sono finito Sono finito Letteralmente No 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 Bene Grazie Ci dobbiamo rifare tutta la strada A piedi Grazie Mostra Grazie Guardate 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 quanto è grande Guardate quanto è grande Oh mio dio Sta facendo anche notte Sta facendo anche notte No ma è troppo grande ragazzi Ma come faccio a esplorarlo tutto Poi senza game mode Passiamo di qua Wow Di notte Ha un effetto bellissimo Guardate Ok Entriamo qua dentro Eh Ci sono dei tasti Qua cosa fanno Niente Penso Wow Un'armatura Cosa c'è No Siamo entrati Guardate Questo è proprio Il centro Trono del re Dolce vita Quarto Chi è dolce vita Questo Dolce vita Ti frego Cos'è Royal Oh mio dio Guardate No abbiamo trovato Guardate cosa abbiamo trovato Abbiamo trovato Royal Guarda Abbiamo trovato Abbiamo trovato le cose imperiali Ci freghiamo tutto Imperatore Mi dispiace Ma non mi hai dato Non mi hai dato una mano Io mi prendo le tue cosine Adesso Sono io L'imperatore Di tutto questo regno Ha 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 Scherzavo Wow Veramente Gigantesco Questo posto Questo castello È veramente bello Solamente che È abitato da mostri Non c'è nessuno Ma È il castello dei mostri Ecco Se io salgo qua Dove vado Dove 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 Voglio vedere in alto Cosa c'è Saliamo Saliamo in alto Beh questa scala Comunque non è tanto sicura Ma dove si va Uh altre casse Sì Vabbè Ragazzi Guardate Freccia avvelenata Io me le prendo Me le prendo Grazie mille Me le prendo tutte Questa è la torre No siamo nella torre Dove volevo andare prima Forse nella torre Degli arcieri Sì vabbè Guardate quanto è alta Oh Grazie Grazie Finalmente Oh finalmente Un letto Non ci posso credere Abbiamo trovato un letto Qua Dove siamo Oh mio dio Oh Oh mio Oh mio dio Ragazzi Dove sono finito Cerchiamo di non Distruggerci proprio Guardate tutte le bancarelle Là Che belle E là Ah là Cosa c'è Ok un pozzo Wow Ma qual è la torre più alta Quella forse Spider-Man Spider-Man Ok ragazzi Io sto per rimetterci Le penne Sì le penne Come potete vedere Ho due cuori Io spero che il video Vi sia piaciuto Guardate Nelle mie spalle C'è tutto il castello È veramente immenso Esplorarlo in survival È veramente impossibile Quindi se il video Vi è piaciuto Lasciate un bel like E noi Ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao Ciao